il leader della lega sulla tentata rapina nel cuneese un abbraccio al gioielliere e alla sua famiglia aggredita lo scrive su facebook il leader della lega matteo salvini su quanto accaduto nel cuneese dove il titolare di una gioielleria avrebbe sparato durante una tentata rapina uccidendo due rapinatori il loro negozio di grinzane cavur cuneo era già stato rapinato nel 2015 il titolare era stato picchiato e legato poi chiuso in bagno con la figlia la difesa è sempre legittima aggiunge salvini grazie a tutti